che questa sera accompagnerà con la sua chitarra alcuni pezzi che verranno declamati e inoltre ci sono tanti amici qua presenti che vogliono leggere i loro testi e quindi non emozionatevi, se avete voglia di leggere i testi ci sarà il momento per tutti di... questo torna, non è questo il momento per tutti ci sarà il momento per tutti Marina ti lascio subito lo spazio e un applauso vorrei dire solo una cosa che le musiche che sentirete sono state composte da Roberta Trani che è una mia unità, facendo un progetto insieme questo è un esame del titolo ci siamo luce spente nella sera d'autunno, fredda e cruda il fare, il come e i non ricordi si inchieva da un passo il cosa sarà non mi appartiene sono qui, respiro queste cellule il presente è il mio burattinaio scaldisco gli intocchi lasciandomi alle spalle i cadaveri delle paure inchiostro permanente sulla pelle mentre mi aspetta la rosa costante la mia bussola che mi ricorda dove è primavera un eterno muoversi intorno tra le ombre della viola un applauso